Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution 2. Benvenuti ragazzi in Nevada, per la precisione sulla Sierra Nevada dove oggi costruiremo un nuovo parco per i dinosauri. Ho intenzione di creare una specie di ranch come quello di Owen e come potete vedere abbiamo un sacco di spazio a disposizione. Direi di iniziare subito posizionando il punto d'arrivo e potremmo naturalmente utilizzare quello di Jurassic World. In questo caso ho deciso di creare una mappa appiattita e non normale, infatti come potete vedere non esistono piante, non c'è acqua, non ci sono rocce eccetera eccetera. Le metteremo noi naturalmente nel corso dei vari episodi. Tracciamo subito la strada che i nostri turisti dovranno percorrere per raggiungere i vari recinti e oggi ho intenzione di creare subito degli animali che potremmo considerare anche simbolo di questa zona, ovvero dei parasaurolophus. Se vi ricordate infatti Owen nel film Jurassic World Dominion lo vediamo per la prima volta mentre sta dando la caccia ad alcuni di questi animali. Allora la strada la voglio creare in questo modo con dei passaggi intermedi in modo che i turisti si possano spostare da una strada all'altra. Vedete creiamo anche delle specie di iwale dove inseriremo delle fioriere, delle luci, adesso vediamo un attimo. E l'ultima la possiamo creare qua, perfetto. Poi passiamo subito subito ai recinti, direi di utilizzare la recinzione elettrificata media perché comunque i parasaurolophus non necessitano di chissà che tipo di recinzione e il recinto lo potremmo piazzare qua. Proprio all'inizio, in modo che non appena arrivano in questa zona i turisti possono fin da subito godere della vista di questi animali, potremmo creare due recinti diversi. Uno per i parasaurolophus di Jurassic World Dominion e l'altro per i parasaurolophus che appaiono negli altri film, quindi per esempio The Lost World o Jurassic Park 3. Quindi così potrebbe andar bene e l'altro invece lo mettiamo da questa parte. Però sempre tondeggiante perché sinceramente mi sono un po' stufato di creare recinti troppo squadrati, ecco. Ne ho già creati abbastanza nei vari video che ho caricato sul canale negli ultimi praticamente due o tre anni in cui ho giocato Jurassic World Evolution 1 e Jurassic World Evolution 2. Inseriamo anche due incubatrici e direi di utilizzare quelle della Biosyn perché mi sembrano quelle che si adattano meglio al contesto. Quindi ne mettiamo una da questa parte e l'altra da quest'altra parte. Perfetto. Poi colleghiamo entrambe le strutture naturalmente alla strada principale. Adesso tracciamo dei percorsi abbastanza, come dire, strani ma non preoccupatevi perché tanto poi verranno risistemati in futuro man mano che espanderemo il parco. Una volta fatto ciò direi di iniziare ad incubare gli animali direi da questa parte di inserire dei parasaurolophus che appaiono nel film Jurassic Park 3 magari gli sistemiamo un pochettino il genoma perfetto e anche nel film The Lost World Jurassic Park tanto vedete le skin ci sono. Da quest'altra parte invece liberiamo dei parasaurolophus che appaiono invece nel film Jurassic World Dominion di tipo A di tipo B e anche di tipo C questi sono quelli di tipo C allora visto che ogni lotto è composto da 6 uova ma lo spazio qua è ristretto direi che 3 esemplari per tipo possono andar bene magari selezioniamo i migliori come sempre mentre dall'altra parte ne abbiamo di 3 tipi diversi potremmo anche liberarne 4 per tipo quindi 4,8,12 parasaurolophus in totale e anche in questo caso ricordiamoci di selezionare i migliori ok gli animali sono pronti liberiamo i primi nel frattempo nei commenti fatemi sapere magari tra i parasaurolophus di Jurassic World Dominion qual è la skin che vi piace di più se quella di tipo A tipo B o tipo C a me sinceramente piacciono tutte e tre forse questa azzurrina ha un qualcosa in più eccoli qua che arrivano bellissimi eh sono tra i miei erbivori preferiti ho sentito molto parlare di te allora ti parlo un po' di me sono Isaac Clement ma puoi chiamarmi Isaac non servono conveniboli qui al parco dobbiamo guardarci le spalle a vicenda la gente pensa che ci occupiamo di dinosauri ma il nostro settore è l'intrattenimento le nostre star hanno viaggiato 65 arrivano quelli di tipo B eh anche questi qui sono meravigliosi sono veramente meravigliosi ah ecco cosa serve comunque a differenza degli altri questi qui hanno delle striature orizzontali lungo il corpo e adesso diamo un'occhiata anche a quelli di tipo C che dovrebbero avere più o meno lo stesso colore di quelli di tipo B solo che le striature in questo caso sono perpendicolari al terreno a mo' di tigre per intenderci questi parasaurolophus sono dei gran casinisti comunque eh perché appena sono usciti dall'incubatrice subito hanno iniziato a farsi sentire in tutti i modi liberiamo anche quelli che ho creato da questa parte ovvero quelli di tipo Jurassic Park 3 e Jurassic Park del Lost World hanno una colorazione leggermente diversa poi se date un'occhiata al muso vedete che ha una forma diversa da quella degli altri parasaurolophus anche le zampe anteriori leggermente non lo so oramai mi sto abituando a quelle di Jurassic World Dominion perché se no all'inizio mi piacevano molto di più questi qua questo qua ha anche il corno rosso infatti se vi ricordate nel film diceva catturate quello con il corno rosso parliamo naturalmente di questi esemplari qua però anche quelli di Jurassic Park 3 hanno il corno rosso solo che avendo la pelle di colore verde si mimetizzano un po' meglio con la vegetazione infatti come dire si intravedono nel film non è che appaiono così chiaramente se non sbaglio nella scena in cui i protagonisti scappano dal laboratorio inseguiti dai veloci raptor e direi che la quantità di esemplari all'interno di ogni recinto può andar bene quindi iniziamo subito a modificarglielo magari creiamo una specie di lago qua in mezzo in modo che non debbano soffrire la sete ecco fatto e poi andiamo dall'altra parte e ne creiamo uno più o meno dello stesso tipo ecco e così ci sta poi per quanto riguarda la vegetazione vogliono vegetazione con frutta a guscio bassa quindi questa qua che non lo so stona un pochettino con le piante presenti nella serra nevada quindi gliene mettiamo un po' sparse qua e là in modo che si mimetizzino poi con i pini o le piante sempreverdi che andrò ad aggiungere vedete facciamo una cosa del genere così quasi non si notano poi dobbiamo stare attenti perché vogliono un bel po' di spazio aperto devo ancora decidere dove piazzare le gallerie panoramiche le piattaforme panoramiche gli hotel ma penso che ci metterò pochissimo qui abbiamo degli arbusti ornamentali che possiamo inserire di fianco al lago centrale in modo che diano la possibilità ai parasaurolophus di poter accedere a questa fonte d'acqua poi gli arbusti li potete utilizzare anche per coprire delle zone completamente vuote e direi che ci siamo adesso dobbiamo soltanto mettere le piante singole perché tanto ne abbiamo una valanga a disposizione e le possiamo disporre un po' come vogliamo qui magari al centro creiamo una piccola isola con un po' di esse cercate di metterle un po' a casaccio magari piante uguali non mettetele troppo vicine tra loro perché se no si vede che non è una cosa naturale ma è una foresta creata artificialmente passiamo alle rocce ah guardate la parte superiore delle rocce è praticamente sporcata dalla neve fichissimo quindi possiamo scegliere qualsiasi tipo di roccia tanto comunque sono tutte imbiancate anche le rocce mettetele abbastanza a caso così il recinto sembra molto più naturale non creato artificialmente dall'uomo non state lì a ragionare troppo su come metterle mettetele basta perché fidatevi il risultato è più bello rispetto a ma la roccia la metto di qui la metto di là voi posizionatele ricordatevi di mettere sia quelle grandi sia quelle piccole perché in natura non esistono soltanto rocce enormi ok direi che qui ci siamo adesso manca l'altro recinto potete potete anche mischiare i vari tipi di di rocce quindi per esempio le rocce mediterranee con quelle tropicali ok questo è il risultato finale ho completato il recinto dei parasaurolophus di jurassic world dominion mentre da questa parte c'è il recinto dei parasaurolophus di jurassic park direi che sono venuti entrambi molto molto bene e gli animali hanno tutto quello di cui hanno bisogno per sopravvivere tranquillamente magari da questa parte vorrebbero un po' più di spazio aperto ci mettiamo un attimo a soddisfare la richiesta magari tiriamo via un po' di piante da questa parte e infatti la percentuale è già salita immediatamente allora mettiamo delle gallerie panoramiche e delle piattaforme panoramiche per esempio una galleria la potremmo mettere qua un'altra galleria la potremmo mettere da questa parte per quanto riguarda la piattaforma panoramica una la mettiamo qua vediamo se si riesce a vedere qualcosa sì più o meno no ma comunque gli animali li vedono nessun problema e l'altra invece direi di metterla da questa parte sì riescono tranquillamente osservare tutto il recinto nonostante magari ci siano delle piante alte che potrebbero ridurre la visuale adesso dobbiamo decorare un pochettino questa zona inserendo magari delle strutture per i turisti tipo un paio di hotel magari proprio qui in fondo vediamo se riesco a farne stare tre perché mi aspetto una grande affluenza di turisti uno due e direi che il terzo ci sta tranquillamente ecco fatto e costruiamo una strada come questa tagliamo proprio tutta la zona guardate ci facciamo stare anche delle fontane le mettiamo qui di fianco a questo percorso ne mettiamo tre grandi e due un po' più piccole una e una due tutta questa iuola chiamiamola così potremmo decorarla con questo tipo di pavimentazione ecco fatto che ne dite sembra già tutta un'altra cosa adesso direi che però possiamo piazzare dei servizi piccoli da questa parte ne mettiamo uno per tipo e li personalizziamo dopo averli disposti tutti quanti ecco fatto mettiamo ancora il ristorante proprio qua di fianco all'entrata e siamo a posto andiamo su renditutto casuale e vediamo cosa viene fuori cerchiamo naturalmente delle combinazioni interessanti invece degli striscioni vorrei queste fioriere qua tanto per dare un tocco di colore e anche in questo caso mettiamo queste fioriere qua anche se potremmo provare a inserire queste invece tanto per cambiare un po' naturalmente non terminerò di decorare il parco oggi però voglio già iniziare a mettere le prime decorazioni quindi mettiamo tre luci moderne alte qua in mezzo e proseguiamo nelle altre tra virgolette eye wall del parco in modo da illuminare la zona per quanto riguarda il colore delle luci valutiamo dopo ma dovrebbe essere già interessante un giallo acceso si può poi modificare dopo nel frattempo manteniamo questo che va benissimo dove le eye wall sono molto grandi mettiamo quattro luci invece di tre perché sennò rischiamo di sprecare troppo spazio e mettiamo tali luci anche qua davanti agli hotel a debita distanza ma le mettiamo direi che tre possono andare bene uno due tre uno due tre e quattro in questo caso recuperiamo le fioriere e le mettiamo tra una luce e l'altra qui ce ne sono due devo toglierne poi una se avanza spazio si può mettere magari qualche altra decorazione nessun problema tipo magari dei cartelloni adesso vedo un attimo io davanti agli hotel visto che c'è spazio mettiamo queste fioriere qua di tipo c con con il fogliame e ne mettiamo due per spazio in questo modo vedete uno due infine prendiamo le fioriere di a forma di albero e tracciamo due linee qua davanti mettendo una fioriera tra le altre due in questo modo a intervalli regolari come abbiamo fatto per tutte le altre decorazioni apriamo il parco in modo che i primi turisti possano arrivare e visitare gli animali qui devo modificare però questa strada perché non mi piace com'è venuta a parte che la torre panoramica è un po' storta però preferirei che la strada fosse parallela al servizio in modo da poter inserire eventualmente delle piante singole e creare una cosa del genere uno due tre quattro e cinque una specie di potremmo definirlo anche viale alberato mi sono dimenticato di mettere altre strutture utili per i turisti per esempio i bagni qui davanti possiamo metterne altri anche qua ci stanno veramente al pelo va benissimo poi servono altri rifugi d'emergenza però in questo caso vorrei provare a inserire quelli di giurassic park solo che qua mi sa che non c'è abbastanza spazio qua ad esempio ci sta da questa parte inseriamo il classico scheletro di spinosauro che ci sta sempre bene costruiamo una strada che gli passi davanti e lo circondiamo di rocce è una cosa che ho già fatto anche in altri video di jurassic world evolution 2 però mi piace fare sempre praticamente e davanti gli mettiamo una bella fontana circondata da due piante dentro l'aiguola ed infine ne mettiamo una terza qua con due arbusti voilà gli arbusti ricordatevi che potete utilizzarli anche in questo modo vedete perché richiedono meno spazio e quindi riuscite a infilarli un po' ovunque guardate che bello poi potete circondare questo chiamiamolo altarino con queste piante ed ecco qua il risultato finale vedete molto molto bello molto particolare con questa fontana le luci magari poi le cambierò perché non sono bellissime di questo colore davanti agli hotel mettiamo una due creiamo una specie di viale alberato con queste piante qua e poi dietro se ce la facciamo mettiamo delle rocce perché non vorrei oscurare troppo la vista ai visitatori ok ho appena terminato di mettere delle rocce vicino all'hotel bisognerebbe decorare un pochettino anche l'entrata del parco perché effettivamente così è un po' tra virgolette povera e potremmo utilizzare a parte le sculture della biosin una e una due mettiamo queste fioriere qua opla magari poi la gente si sposta oppure libero un dinosauro e li faccio scappare via a parte che se si tuffasse lì in mezzo farebbe una strage perché li schiaccierebbe tutti ecco fatto già molto molto meglio sapete che vi dico voglio inserire anche le girosfere in modo che passino almeno nel recinto dei parasaurolophus di jurassic world dominion quindi la stazione la mettiamo qua le girosfere le facciamo passare qui all'esterno per poi farle entrare in un punto dritto vediamo un po' qui direi che può andar bene si le facciamo entrare qua devo togliere poi questa pianta perché se no non riesco anzi non c'è bisogno perché mi basta stringere un attimo il laghetto stavo pensando di togliere quella pianta però posso fare tranquillamente così le facciamo passare qui di fianco all'acqua occhio alle rocce perché ne ho messe tantissime passano davanti all'incubatrice da dove magari faremo uscire altri animali possono entrare qui dentro così evitiamo di dover creare qualcosa di particolare davanti alla galleria panoramica e ci siamo quasi voilà perfetto sto mettendo delle piante per separare il percorso delle girosfere da quello pedonale dove passano i turisti in modo che rimanga un pochettino nascosto e chi è a bordo della girosfera abbia l'idea di quasi attraversare una foresta e dopo voglio modificare anche la recinzione che ho messo per i parasaurolophus naturalmente non posso nascondere completamente il percorso delle girosfere però posso comunque fare in modo che si veda almeno possibile ecco ok ci siamo vi faccio vedere il risultato finale ho posizionato le piante in questo modo qui c'è il percorso delle girosfere modifichiamo la recinzione la rendiamo ancora più leggera perché tanto non c'è bisogno di chissà che recinzione in modo che anche dall'esterno chi è a bordo della girosfera dopo aver fatto un giro all'interno del recinto possa vedere tranquillamente gli animali senza troppi problemi da questa parte non ho ancora deciso cosa fare potremmo inserire anche una seconda galleria panoramica perché ci dovrebbe stare infatti ne possiamo mettere tranquillamente due ecco fatto e direi che l'effetto è buonissimo perché vedete tanti più turisti riescono a vedere gli animali in azione possiamo provare a inserire ancora un altro dinosauro all'interno di questo recinto perché tanto di spazio ce n'è a volontà nel frattempo che aspettiamo che gli animali siano pronti voglio inserire delle strutture per gestire gli animali ovvero un centro di risposta che qui ci sta benissimo così non sprechiamo spazio poi mettiamo anche una struttura paleomedica ecco fatto ed un centro di controllo però il centro di controllo voglio quello della biosin perché eventualmente possiamo creare non so dei tunnel sotterranei per raggiungere altre porzioni di parco gli edmontosauri sono pronti quindi liberiamoli guardate che belli con queste colorazioni particolari tra i due preferisco quello però sulla destra è questo qua marroncino ed eccoli qua sentiamo un attimo cosa hanno da dirci il parco ha raggiunto la fama grazie ai dinosauri ma potrebbe essere meglio di così lavorando insieme saremo in grado di portarlo a nuovo splendore scusa non mi sono presentato george lambert esperto in sicurezza abbiamo molte sfide non perdiamo tempo assolutamente george però ti dico questo interessante un edmontosaurus è un quadrupede erbivoro in grado di ergersi e camminare sulle zampe posteriori dovrebbe essere più facile da controllare e sorvegliare di molte altre specie usa questo dettaglio a tuo vantaggio nella progettazione del parco dobbiamo mettere delle fibre basse in modo da soddisfare le esigenze di questo animale direi ragazzi che per il momento ci possiamo salutare qua come sempre spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ci rivediamo in un prossimo episodio che a breve troverete sul canale di jurassic world evolution 2 alla prossima